Non sono intenzionati a mollare i lavoratori della Treofan, convinti che la loro azienda, leader nella produzione di film plastici, sia stata chiusa ingiustamente, nonostante i conti inattivo, tutto questo senza considerare diversi elementi strani registrati nell'accessione dalla MC alla Gindal per 500.000 euro, a fronte del valore di svariati milioni di euro del solo sito di Battipaglia, senza considerare quello di Terni. Perplessità evidenziate anche al prefetto di Salerno nel corso della visita al loro presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Ma penso più che altro per prendere tempo, per dimostrare effettivamente quella che è la situazione reale di quello che stiamo vivendo e che poi viveremo successivamente. Quell'estate comunque in presidio, anche per ribadire ancora una volta che questa non era un'azienda decotta, era un'azienda che stava sul mercato e faceva utili. Sì, fondamentalmente questa era un'azienda che produceva e che comunque lavorava a ciclo continuo e che comunque pagava gli stipendi. Quindi ci siamo trovati in questa situazione e continueremo fino a quando non avremo delle risposte, perlomeno su qual è il nostro futuro. Una determinazione condivisa dai sindacati CGL, Cisle e Will, convinti che non si possa subire un altro scippo al tessuto produttivo della Piana del Sele. La settimana scorsa abbiamo inviato come organizzazione sindacati CGL e Cisle e Will lo stato dell'arte, cioè quello che noi riteniamo ci sia, c'è una tensione sociale a seguito di un'apertura di procedura di mobilità, di licenziamenti collettivi e abbiamo inviato una lettera al prefetto perché riteniamo che in questi momenti ci sia una tensione sociale data dalla chiusura dello stabilimento e dai licenziamenti in atto, per cui abbiamo chiesto un intervento del prefetto, abbiamo avuto un incontro alla sua disponibilità e oggi ci ha dato un segnale di vicinanza a quella che è l'avvertenza e ai lavoratori della Treofan. Treofan ormai da 60 giorni a questa parte, da due mesi a questa parte sta avendo un risalto nazionale proprio per la vicenda che è nata con dei presupposti negativi in quanto non c'era nessun avviso e nessun problema su questa azienda, però purtroppo il management il 25 di gennaio ha aperto la procedura di licenziamento collettivo, una cosa assurda, un'azienda in salute, un'azienda sana, lascia una rabbia perché sul territorio aziende come queste in salute ce ne sono poche, poi per il resto ci sono anche altre aziende che soffrono, hanno difficoltà e ci siamo per intervenire, per cercare di trovare delle soluzioni.